C'è un mancato controllo su queste cose. Non vorrei che il mancato controllo sia una cosa più grave. Forse chiedo troppo, ma volendo fare un nome, un cognome su quella cosa che lei mi dice, cioè questo business dell'accoglienza sulla quale la politica vorrebbe fare e lucrare soldi in campagna elettorale, se la sente di farmi un nome in questo programma? Ma chi è che è responsabile di queste cifre e di queste cose? Non lo so, me lo dica lei. Secondo lei. No, no, lo dica lei. A noi risulta il Ministero degli Interni, evidentemente. E c'è anche una provincia, ed è anche la Sicilia. Non ci vuole molta fantasia. Quindi lei dice Angelino Alfano. Noi abbiamo un mancato controllo. Io già l'ho detto al Ministro Alfano. La mafia si è interessata ai centri di accoglienza provvisori e straordinari che le prefetture stanno armando da tutte le parti in Sicilia, affidandoli a enti nati il giorno prima, i cui titolari sono persone che mi dicono alcune volte essere riconducibili o vicini a soggetti mafiosi. Nella provincia di Matteo Messina Denaro questi centri sono cresciuti come i funghi. Se lei pensa che ognuno di questi immigrati costa allo Stato tenuto in questi centri da 30 a 50 euro al giorno, le ripeto, se lei considera che è un centro che ha 100 immigrati, 100 immigrati viaggia su una cifra annua dal milione al milione 800 mila euro annui, affidati senza gara, in via d'emergenza, a soggetti creati da un giorno all'altro e che non hanno certificati antimafia e forse non li possono avere per le parentere o i controlli, la situazione è molto grave, la stiamo attenzionando come intendiamo farla come commissione antimafia. È una situazione molto più grave di quella che appare addirittura. Io non vorrei che qualcuno stia pensando di farsi la campagna elettorale con questi soldi e affidandoli a soggetti che sono collusi o vicini con la mafia o comunque con situazioni poco chiare. Arrivano dati allarmanti alla Sicilia. Quando lei ha detto questo ad Alfano, Alfano che cosa le ha detto? Ha abbassato la testa, ha preso appunti e ha fatto un gesto come dire vedremo. Secondo me già sa abbondantemente.